Due funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Menopoli in servizio presso l'Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro sono stati arrestati dai finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria con il supporto operativo dello Scico e la collaborazione di Europole e della DCSA, mentre una dipendente di una società di spedizione è stata posta ai domiciliari. Tutti accusati di essere convolti in un traffico internazionale di sostanze stupefacenti, aggravato dalla finalità di Giovalare Landragheta. Sono però sette soggetti indagati dalla DDA Regina e tra loro figura anche un terzo funzionario doganale, già tratto in arresto nel corso di un'altra operazione nel mese di ottobre del 2022. Le Fiamme Gialle avrebbero scoperto un vero e proprio sodalizio criminale costituito dal responsabile di una dita di spedizioni, di alcuni portuali e da referenti delle principali cosse di Andrangheta operanti nell'area del Plapiano di Gioia Tauro, che avrebbe fatto uscire ingenti quantitativi di cocaina dal porto di Gioia Tauro grazie al posizionamento di doganieri corrotti in punti nevralgici del dispositivo di controllo, come lo scanner e l'accertamento visivo fatto con l'apertura dei container, che alteravano gli esiti delle spezioni o omettevano di comunicare anomalia dei carichi controllati. Tra i documenti rinvenuti dai finanzieri figurano anche precise istruzioni fornite dai funzionari doganali su come i narcos sudamericani avrebbero dovuto collocare i panetti di cocaina all'interno dei carichi di copertura, al fine di ridurre sensibilmente la possibilità che questi venissero individuati nel corso di controlli ordinari. E laddove il carico fosse stato comunque scoperto, gli stessi doganieri avrebbero provveduto a fornire all'organizzazione i relativi verbali di sequestro al fine da giustificare le perdite, evitando in tal modo il pagamento di quanto patuito. Inoltre, uno dei funzionari doganali si sarebbe preoccupato di avvertire i trafficanti di eventuali operazioni condotte dalle fiamme gialle, con l'intento di evitarne l'arresto. Le indagini hanno consentito di ricostruire 5 importazioni di stupefacente, realizzate tra giugno del 2020 e ottobre del 2022, per oltre 3 tonnellate di cocaina, delle quali 2 tonnellate 700 chili, intercettate dai finanzieri e sottoposte a sequestro.